Dove andare per il weekend? Dove andare per il weekend? A Perugia c'è le orocioccolate Dal 13 al 22 ottobre, dalle 9 alle 20 con prolungamento alle 23 per il sabato, la città Umbra ospiterà tantissimi stand di dolciumi, ma non solo, quest'anno è tutta un'altra musica. Alle orocioccolati per dolci e musica, ecco dove andare per il weekend. L'evento inizia oggi, 13 ottobre, e si concluderà il 22, di cosa stiamo parlando? Di uno dei luoghi più dolci dove andare nel weekend in questo periodo, le orocioccolate. Perugia, città Umbra celeberrima per i suoi gustosissimi cioccolatini recanti messaggi poetici in tutta Italia, ospiterà per la 24esima edizione la più grande manifestazione a tema cioccolato d'Europa. Quest'anno poi, come si legge sul sito ufficiale e sui social, accanto a dolci e le cornie di ogni tipo ci sarà anche un'altra grande protagonista, che si riferisce al senso dell'udito più che a quello del gusto, ma vedrete che le due cose in qualche modo saranno squisitamente unite. Tutta un'altra musica è lo slogan dell'eurocioccolate di quest'anno e le sorprese sono davvero tante, uno dei prodotti presenti, per esempio, potrebbe essere definito come la sintesi dei due aspetti principali di questa edizione, ovvero musica e cioccolato. Si chiama Shoko Musiki il gadget ufficiale realizzato da costruttori di dolcezze by Eurocioccolate, che si compone di una tavoletta di cioccolato belga da 75 grammi e di un paio di auricolari della stessa tonalità di colore del cacao. Il tutto in un vintage packaging che colpisce sempre e che si estende a tutta una serie di prodotti acquistabili durante il festival. Non è finita qui, ovviamente, in piazza 4 novembre, infatti, è stato allestito un pianoforte gigantesco, il maxi sciocco piano, appunto, lungo 4 metri forse sarà più facile mangiarlo che suonarlo. È realizzato con una struttura composta da 1500 tavolette di cioccolato fondente e bianco, griffato Nestlé. Per chi, in ogni caso, volesse davvero esprimere il proprio talento musicale, potrà farlo grazie al Big Piano, una tastiera gigantesca che si dovrà suonare con i piedi, un po' come accadeva nel celeberrimo film Big, interpretato da un talentuosissimo e giovanissimo Tom Hanks, ve lo ricordate. Eurocioccolate, il paradiso dei golosi. Chi adora il cioccolato e i dolci a base di questo nettare degli dei non potrà fare altro che presentarsi puntuale all'Eurocioccolate di Perugia, e passeggiare per la città lasciandosi trasportare da un armonioso, appetitoso e paradisiaco aroma di cacao. Le bancarelle e gli stand saranno tantissimi, oltre 100 le grandi firme delle aziende dolciarie rappresentate, con oltre 6 mila prodotti. Le strade e le piazze di Perugia saranno letteralmente invase da tutti gli amanti del cioccolato, che si potranno sbizzarrire tra assaggi di nuovi gusti e nuovi prodotti mai provati prima, con la possibilità di portarsi a casa una dolcissima fetta dell'Eurocioccolate. Con la ChocoCard, poi, avrete la possibilità di ricevere tantissimi omaggi agli stand, tra cui una bowl e l'Indoor, Shupa Shups Shoco, praline per nigotti, mini ritter, una sfoglia nera Miami, un tè al cacao dell'Era Clea, mini confezioni di caramelle Ricola, una colata di yogurt al cacao con topping a scelta da fagge total e tanto altro. Ciao!